Ospite della redazione mobile del Messaggero Veneto, qui a Pordenone Legge 2016, lo scrittore Marcello Fois, che è qui a Pordenone per parlare anche della sua città di Nuoro. Sì, 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 mi hanno invitato per fare una tappa di questo incredibile viaggio in Italia che si svolge durante il corso del festival. Sono otto appuntamenti con otto città diverse che raccontano, secondo me, questa nazione in maniera bella e intelligente come manifestazioni di questo tipo debbono fare. E appunto una di queste tappe è Nuoro. Nuoro che ha forse la vicenda più curiosa all'interno di queste otto città perché è una città che oggi ha 40.000 abitanti ma che ha, come dire, una quantità di letteratura che è pari alle grandi capitali europee. Quindi dalla Dele Edda, Salvatore Satta, Camboso, il Sottoscritto, Nifoi, Dessì. Cioè Nuoro ha veramente milioni di pagine dedicate a questo posto che è minuscolo e che quando tutto questo processo, diciamo così, di autocelebrazione letteraria è iniziata aveva veramente 6.000 abitanti. Quando la Dele Edda, 80 anni fa, ha preso il Nobel, a Nuoro sì, aveva 6-8.000 abitanti. C'è anche un museo. C'è un museo dedicato alla sua casa natale. C'è forse il più importante museo di arte contemporanea che ci sia in quel bacino lì perché il Mann è un museo straordinario. Ci sono le case editrici. Le case editrici sarde hanno sede a Nuoro. Quindi questa piccola Atene, come fu definita già alla fine dell'Ottocento, Atene Sarda, appunto, Nuoro, ha ancora qualcosa da dire. E quindi volevo raccontare questa strana storia di prosopopea e ho anche un po' di presunzione, di un posto talmente piccolo che invece però si considera enorme, si considera una grande capitale europea. Tu sei uno scrittore e anche un giallista. Sì, sì, sì. Un giallista particolare, insomma. Ambienti le tue storie in Sardegna. Sono un autore che, avendo imparato a fare questo mestiere leggendo molto, ha capito che se il tuo posto, come dire, se il tuo scaffale dipende non tanto dal genere che pratichi ma dalla qualità con cui lo pratichi va bene tutto. Quindi io sono, orgogliosamente, un giallista da questo punto di vista, ma come credo sia stato Sciascia a suo tempo, Buzzati, Gadda, Ecco. Noi siamo un paese dove, quando dici giallista, non è che dici cose di poco conto. Bisogna che qualcuno se lo ricordi. Non è una letteratura di serie B? Già. Ma sai, la letteratura di serie B dipende dalla scrittura di serie B. Non dipende quasi mai dal genere di per sé. C'è dell'ottima letteratura, persino erotica, di serie A. E poi ce n'è tantissima di serie B e così via. Rosa, c'è un rosa di serie A e un rosa di serie B. La realtà è che appunto i generi sono due. Ben scritto e così e così. Ecco, mettiamo a questo. Un'ultima domanda che mi è stata suggerita. Qual è, secondo te, il più grande giallo scritto in Italia? Il più grande giallo scritto. Io sono, come dire, la mia teoria è che il nostro romanzo fondativo, cioè i Promessi Sposi, contenesse tutto quello che poi noi abbiamo fatto nel tempo. Pensa che è il romanzo attraverso il quale noi abbiamo capito come si poteva sviluppare una comunicazione letteraria in questo paese che è giovanissimo, tutto sommato. Noi non siamo la Francia o l'Inghilterra, abbiamo una storia letteraria che è più giovane. E abbiamo iniziato con questo signor Manzoni addirittura vent'anni prima che la nazione esistesse. E vent'anni prima che la nazione esistesse questo progetta un grande libro noir di rapimento e di cattiveria con figure nerissime, ma che inizia con una minaccia mafiosa. Mi sembra abbastanza interessante se lo inquadri in questo modo. È proprio veramente l'anamnesi del paese in cui viviamo. E i grandi libri fanno questa cosa, a prescindere dal genere. Un'ultimissima domanda di Rito, a cosa sta lavorando adesso Marcello Fois? Sto lavorando, per esempio, dopo la trilogia Chironi, dopo tutto questo enorme lavoro che è durato dieci anni, di questa storia di una famiglia nuorese dalla fine dell'Ottocento fino al 2000, ho proprio cambiato completamente. Il mio prossimo romanzo sarà ambientato tra Bologna e Bolzano. La Sardegna non sarà mai citata, i personaggi non sono sardi e sarà un noir. Voglio proprio voglia di ritornare a casa, al calduccio. Bene, grazie. Allora, a Marcello Fois.